La notizia della settimana che riguarda un po' tutti gli appassionati di birra è che un nuovo monastero ha ricevuto l'autorizzazione per produrre birra trappista e poterla chiamare quindi birra trappista. Ho pensato quindi di fare questa puntata un po' differente dal solito senza fare una degustazione, ma ho recuperato qualche bottiglia dalla mia collezione personale, l'ho spolverata prima di fare il video ovviamente, proprio per provare a spiegare un attimino meglio questa notizia. Innanzitutto partiamo dalla definizione di birra trappista. Con questa definizione intendiamo quindi delle birre prodotte in un monastero da monaci trappisti, quindi o direttamente dai monaci oppure può anche esserci dal personale laico, ma che lavori sotto la diretta supervisione e gli ordini diciamo dei monaci. Chi sono quindi i monaci trappisti? I monaci trappisti, o meglio la nomenclatura completa, sarebbe monaci cistercensi della stretta osservanza. È un sottogruppo, o meglio un distaccamento, dei monaci appunto cistercensi, che a loro volta sono uno dei tanti ordini che sono nati seguendo la regola benedettina, cioè di San Benedetto, che nel 500, che è importante non nel 1500 ma nel 500 d.C., appunto ha dettato queste regole per la vita monastica, di cui famoso è una delle regole, il famoso passo ora et labora, cioè che ha un tempo adibito appunto alla preghiera, sia personale sia collettiva, deve seguire poi un tempo dedicato al lavoro, che spesso questo lavoro è un lavoro di tipo agricolo e che poi dopo si manifestava in diversi modi, con la produzione di cereali, formaggi, salumi, vino, olio e anche birra. Bene, questi cistercensi della stretta osservanza nel 1600 più o meno appunto si sono distaccati, il fondatore di questo sottogruppo era un vescovo, anzi l'abate dell'abbazia di Notre Dame della Trap in Francia, da cui appunto nome trappisti, e quindi ha fondato questo ordine della stretta osservanza, o appunto meglio detti anche come trappisti. Tra le diverse cose che facevano i monaci trappisti c'è appunto anche la birra. Al momento in tutto il mondo ci sono quasi un centinaio di monasteri, l'ultimo dato che ho trovato online indicava 97 monasteri, ma è un dato di qualche anno fa. Di tutti questi 97 monasteri però non tutti fanno birra o non tutti commercializzano birra. Gli unici monasteri che commercializzano attivamente birra trappista sono 11 e da qualche giorno diventeranno 12. La denominazione trappista indica quindi non uno stile particolare di birra, come per esempio IPA o IPA indica uno stile, Weizen, Blanche, Stout e così via, ma indica semplicemente il fatto che questa birra è stata prodotta da monaci trappisti, con la presenza o meno di personale laico, ma comunque sempre sotto la diretta supervisione di monaci trappisti. Esiste quindi un'associazione che protegge questi prodotti e permette di utilizzare il marchio che vedete su tutte le birre trappiste, per esempio queste, è un marchio esagonale, adesso magari lo metto qui in sovraimpressione, e indica appunto i birrifici all'interno di questi monasteri riconosciuti dall'Associazione Internazionale dei Prodotti Trappisti. Questa associazione è relativamente giovane perché nonostante appunto l'ordine dei cistercensi, della stretta osservanza sia di 400 anni fa, comunque già la tradizione di produrre birra era presente in tantissimi altri ordini, anche francescani, anche appunto non solo i Benedettini. Il fatto sta che si è venuto a creare un problema per cui bisognava capire quali birre erano davvero prodotte da monaci e quali invece avevano solo il nome trappista per un discorso più che altro di marketing a livello commerciale. Da quel momento quindi, dal 1997, per essere precisi, è stata costituita questa associazione, esiste quindi questo marchio che può essere applicato solo a 11 birrifici trappisti e che devono seguire determinate regole, quindi come dicevamo prima appunto, produzione da parte di monaci o da personale laico sotto il controllo di monaci, devono essere ovviamente prodotte all'interno di un'abbazia trappista, quindi proprio all'interno delle mura dell'abbazia, la produzione, la scelta dei processi produttivi, ma anche l'orientamento commerciale deve essere sempre scelto dai monaci, non può esserci l'intervento appunto di un direttore di marketing laico per intenderci, e tutti i ricavi della produzione devono essere diretti al sostentamento dei monaci, dell'abbazia o eventualmente opere di beneficenza. Più o meno queste sono le regole base. Di conseguenza, ricapitolando, la denominazione trappista con tanto di marchio indica dove viene fatta questa birra e da chi non indica lo stile. La domanda successiva quindi è, ok, ma che stile è la birra trappista o che stili vengono fatti nelle abbazie dei monaci? Diversi stili, c'è da dire, per esempio, qui ho alcune birre trappiste. Le prime due della Westmal è un classico esempio di due stili molto molto in voga, per così dire, o molto tradizionali in Belgio, da Belle Trippel. Il nome Trippel si riferisce solitamente a birre ad alta gradazione alcolica e non utilizzato proprio dai monaci per utilizzare birre ad alto tasso alcolico. Sono birre caratterizzate da un uso solitamente piuttosto contenuto di luppolo e più abbondante verso i malti. Possono essere chiare o scure, possono essere fatte con solo orzo oppure malto d'orzo di frumento. Per esempio la Trippel, il camellier, ha tre cereali, frumento, avena e orzo. Altra Trippel invece, questa è un'altra Trippel, la Lupul, solo malto d'orzo. Però una Trippel, che non è prodotta appunto in un monastero da monaci cistercensi della stretta osservanza, non può essere quindi definita trappista. È una Trippel non trappista. L'altra, quella più scura, la prima bottiglia alla mia sinistra, è una Double, che è un altro stile ancora, di solito una gradazione alcolica più contenuta, un colore scuro, delle note un pochino differenti e così via. Uesmal, Scimè e Orval sono esempi di birre trappiste, prodotte quindi dai monaci. Alcune birre trappiste sono un po' più semplici da recuperare a livello di distribuzione, altre un po' più complesse e così via. Più o meno gli stili sono questi. Ci sono casi un po' particolari, tipo Orval è secondo me una delle migliori forse birre trappiste, perché oltre alla fermentazione classica c'è anche una fermentazione da parte di alcuni organismi che si chiamano brettanomyces, che sono i brettanomyceti e un altro gruppo di lieviti. Solitamente per la birra si sono i saccaromyceti, che sono altri funghi. E quindi questi brettanomyces danno a Orval un sentore molto più wild, più selvaggio, che è quello stesso stile che adesso va tanto di modo nelle birre funky e che un po' si rifà ai lambic e a tutto il gruppo delle birre acide o delle birre a fermentazione spontanea. Quindi di conseguenza è una birra un po' particolare, Orval, un po' diversa da altre birre trappiste, ma comunque appunto, come dicevamo, il marchio trappista indica solo dove e da chi viene fatta, non uno stile. Per quanto riguarda queste due bottiglie, abbiamo una triple carmelie e una lupulus. In questo caso sono due, secondo me, ottimi esempi di triple. Birre entrambe con una certa gradazione alcolica, la triple carmelie sono 8,4 gradi. Questa lupulus era un'edizione particolare, questa bottiglia 10 gradi. Sono comunque birre, in questo caso chiare, piuttosto cariche, appunto con un tasso alcolico piuttosto elevato, che rispettano tutte le caratteristiche delle triple. Ho preso poi altre tre bottiglie. Queste qui sono birre d'abbazia. La denominazione di birre d'abbazia è un po' più complessa, nel senso che non esiste una vera e propria associazione come era per esempio per le trappiste, che quindi dice quali birrifici possono chiamare in questo modo le proprie birre. Per esempio c'è San Stefanus, è una birra belga, birra d'abbazia, viene indicata, perché è prodotta all'interno di una abbazia, ma è una birra, diciamo, innanzitutto non rispetta alcune caratteristiche delle birre trappiste. Per esempio i proventi della vendita della birra non servono solo al sostentamento dei frati. Viene semplicemente prodotta in abbazia per un motivo di tipo commerciale, tant'è che in Italia San Stefanus, se non erro, è distribuita da Peroni, quindi è un grosso gruppo industriale che ha interesse ovviamente anche a importare altre birre. Queste due bottiglie, acquistate un paio di anni fa se non ricordo male, sono una birra buonissima, peraltro, che ho acquistato a... Norcia, ed è prodotta da monaci francescani, appunto, a Norcia. È una birra d'abbazia, in questo caso, perché è prodotta all'interno dell'abbazia, è prodotta, in questo caso, sempre da dei monaci, che non sono però cistergensi, sono francescani, e soprattutto non hanno, appunto, infatti, il logo di birra trappiste e così via. Questo è un esempio, appunto, di birre d'abbazia, non trappiste, birre d'abbazia trappiste e birre semplicemente triple. Spero di aver fatto un pochino di chiarezza su queste cose, ma era fondamentale capire queste differenze, secondo me, per poter poi apprezzare al meglio la notizia che, appunto, un nuovo birrificio è stato inserito nel gruppo dei birrifici che producono birre trappiste. Il birrificio in questione, che sarà quindi il dodicesimo birrificio autorizzato a produrre birra e chiamarla birra trappista, è in Inghilterra. Giusto, i birrifici sono divisi in giro per il mondo, la maggior parte sono in Belgio, qualcosa in Francia, ce n'è uno anche in Italia, Roma, le Tre Fontane, ce n'è uno in Austria, uno in Australia, se non erro, e ce n'è uno in America. Quello americano, Spencer, è quello un po' più curioso dal mio punto di vista, perché nonostante, appunto, la maggior parte dei birrifici trappisti faccia stili leggermente diversi, ma sempre ispirati agli stili tradizionali belgi, il birrificio trappista di Spencer spazia completamente, è molto più commerciale come tipologia di offerta, tanto che fa addirittura una IPA, una IPA, cosa, dico, un'eresia, ma quasi, secondo me, considerando appunto la storia che c'è di questi birrifici. Lo stile delle India, Pale Ale, è uno stile tipicamente inglese, che è stato riscoperto adesso, e che va molto di moda, quindi probabilmente il motivo per cui questo birrificio faccia anche una IPA è anche per ampliare il proprio pubblico. scelte commerciali, se i monaci americani, Cister Censi, di Spencer, hanno ritenuto opportuno fare una IPA, si vede che probabilmente funzionerà in quel contesto. Detto ciò, questo birrificio qui, questo nuovo birrificio trappista, è in Inghilterra, a Leicestershire, esatto, sto controllando ora perché appunto ho appena letto la notizia anch'io, questa birra qui, hanno già dato un nome a questa birra, ci sono anche già le prime bottiglie imbottigliate appunto, si chiama Taint Middle, sarà quindi una triple in questo caso, anche se non è specificato ancora, da 7 gradi e 4, quindi sì, tra le double e le triple potremmo posizionarla. È un monastero ovviamente di monaci cistercensi della stretta osservanza, ci sono anche, magari metto qualche foto, hanno il loro bel tonaca bianca con una mantellina scura, e niente, questo sarà praticamente il dodicesimo birrificio, non è ancora stata distribuita, se non erro, sarà interessante perché appunto non è semplicissimo ottenere l'autorizzazione, ma in un momento come questo, dove c'è tanto interesse verso il mondo delle birre, riuscire ad avere un altro monastero che produce della speriamo ottima birra, come finora è stato con tutti i birrifici trappisti, sarà una bella esperienza. Che dire, questo più o meno era appunto una puntata forse un po' più teorica, adesso magari con tutte queste birre mi verrebbe proprio voglia di registrare già una puntata di degustazione di qualche birra trappista. Vediamo un po' cosa fare. Grazie per l'attenzione, scal con il calice vuoto di Orval, perché non ho versato nulla questa volta. Alla prossima! Grazie per l'attenzione,